Fai una domanda a lei e poi mi chiedi a lei che parli quando la devi rispondere. Fai quello che ti pare Luigi, sei libero. Fai di fare quello che ti pare. Amma mia. Mi sento emozionato a farlo intervistare Luigi. Guardi l'occhio. Mamma mia. Qual è la tua prima esperienza prima di venire fin qua? In che senso? Esperienza di che genere? In che cosa intendi? Sei congreda di cosa che stai facendo? Moltissimo. La tua esperienza è stata come un faro di speranza, un credere che potete rispondere. E a me questo fa molto bene pensare che ci sono delle famiglie che traggono vantaggio dalla tua storia. Perché anche a me sarebbe piaciuto molto sapere che esisteva un modello simile quando tu eri piccolo. immagino che tu quando avrai finito di studiare, se prenderai la laurea, ma questo non è importante, comunque quando deciderai che finissi di studiare. immagino che tu troverai un lavoro e soprattutto te lo auguro tantissimo. Ogni volta che ci sono questi eventi è sempre motivo di incontri, incontri delle belle esperienze, cose che ti fanno pensare, vedere in altre realtà che ci sono delle cose così belle. Mi caricano di entusiasmo, poi comunque è sempre bello conoscere delle persone. che ci sono delle persone. Ci sono delle persone che ci sono qui. Ah sì, 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 adesso la tua mamma è sempre che ci sono delle cose. Ci sono delle persone che ci sono delle persone. a me sbagliare le persone che ci sono delle persone che davanti che mi ricordano là che è un gioco di calzare. Un plieare di promu追iamo il modello di raccoglio di caso ed entusiasmo. Sobre quella pescoglio è della fornissà di risposta o risposta di acceptare gli altri persi. Grazie a tutti